Alla Sacra di San Michele, come ogni anno, il 29 settembre viene celebrato l'Arcangelo, cui è dedicata questa incredibile abbazia che risale al mille. Posta sulla cima del monte Pirchiriano, la Sacra si erge come un faro di conoscenza e segna una tappa intermedia nel lunghissimo cammino micaelico che dal Mont Saint-Michel giunge fino all'abbazia di San Michele Arcangelo sul Gargano. Convenuti nella chiesa dell'abbazia, tra i molti fedeli convenuti, era presente anche Michele Coppola, assessore alla cultura, patrimonio linguistico e politiche giovanili della regione Piemonte, uno dei più giovani assessori regionali impegnato nella promozione della cultura. Piemonte, un simbolo importante. Piemonte, un simbolo importante. Piemonte, un simbolo importante. Alle 11.30 è stata ufficiata la messa con celebrazione con le comunità ecclesiali della Valle di Susa e cantata dagli artisti della Federazione delle Cantorie Vansusine, diretta da Quatto. Il Sacro Rito è stato concelebrato dal Vescovo di Susa Alfonso Badini Confalonieri. Il Sacro Rito è stato concelebrato dal Vescovo di Susa Alfonso Badini Confalonieri. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.